Buona giornata e buon sabato ben ritrovati con l'informazione live di UD News TV edizione delle 13 che apriamo raccontandovi la mattinata vissuta quest'oggi a Palmanova c'era la manifestazione in difesa dell'ospedale del nosocomio Palmarino in difesa soprattutto del punto nascita tantissime le persone che sono a corse per questa manifestazione ed è lì che c'era per noi Francesca Santoro con la quale ci colleghiamo subito per riassumere un po' com'è andata la mattinata e per ascoltare le voci della protesta. Bentrovata Francesca. Sì buongiorno Davide a Palmanova circa 2000 persone sono scese in piazza a difesa dell'ospedale del punto nascita. Sindaco Martinez una folta partecipazione a questa manifestazione? Direi che non poteva essere diversamente visto l'importanza che ha questo ospedale per un territorio di circa 80.000 persone abbiamo fatto un lavoro anche di far conoscere le iniziative far capire che il problema c'è esiste e che se la gente ci sostiene certamente faremo ragionare la politica regionale. Dalla regione ben poca chiarezza e messaggi contraddittori? Ma sì, lunedì ai capigruppo la storia Riccardi ci dice che ragionerà sui numeri dei parti e ragionerà sulla sicurezza. Poi ieri incontra i ginecologi e dice tutto il contrario dicendo che quei numeri lui li conosce ma che non serviranno per fare le scelte politiche. Ma io dico quando ci si occupa della sicurezza dei cittadini i dati oggettivi, le performance, la professionalità di un ospedale sono fondamentali per dare sicurezza a chi qua viene a nascere o chi qua viene a operarsi o qua viene a cercare delle cure di coefficienti. Quindi dire che il termine sicurezza sparisce da quelle che sono le scelte della politica regionale mi sembra difficile che poi quando si parla di sicurezza si parla sempre di una quantità di interventi chirurgici. Più interventi si fanno e più esperienza c'è, più sicurezza c'è. Nel caso dei parti è la stessa cosa. I numeri non giustificano né il ridimensionamento né la chiusura? No, i numeri no, perché noi negli ultimi dieci anni siamo oltre 820 nati. L'anno scorso è stato il primo punto nascita dopo Pordenone, ma Pordenone è ereditato circa 90 nascite dalla chiusura del punto nascita della base americana di Aviano. Quest'anno siamo in linea con l'anno scorso, 780, quest'anno siamo in tendenza, dice l'azienda, 764, in un contesto di nascita in calo. Io penso, ma per quale motivo? Cioè in una situazione anche di Parmanova che è baricentia, che serve l'Isontino, serve il Bassudinese, serve il Manzanese, il Cividalese, fino a Mortegliano, a Codroio, per tutta la Bassa Friulana, per quale motivo dobbiamo chiuderlo? Io questo ancora lo dobbiamo spiegare a gente. Cioè se si sono fatte delle promesse elettorali in altri territori che non stanno in piedi, si vada in quei territori, se è un politico serio, va su quei territori e gli spiega che quella scelta, quella promessa non può essere mantenuta perché non ci sono i dati oggettivi, non ci sono normative di legge che ci permette di fare questo. Mi sembra che questo farebbe un politico serio. Una manifestazione, quella di oggi, organizzata dal Consiglio Comunale di Parmanova in modo trasversale, a cui hanno partecipato tanti sindaci della Bassa Friulana, dell'Isontino e non solo. Chiedo alla regia di mandare non dei contributi che abbiamo raccolto. Parmanova scende in piazza a difesa dell'ospedale? Assolutamente sì, è in maniera compatta ed è evidente dalle immagini che stanno dietro di noi. Perché questa preoccupazione? Perché le notizie, le informazioni che abbiamo negli ultimi giorni ci fanno fortemente preoccupare, mettono a dubbio e a forte rischio la sussistenza del nostro nosocomio. E non sto parlando esclusivamente della scelta sull'ubicazione del punto nascita, ma su tutto ciò che ne consegue, su tutti gli altri reparti che sono necessariamente legati a questo punto nascita e a tutte le strutture e le prestazioni erogate dall'ospedale. Tanti sindaci presenti oggi a questa manifestazione significa che comunque l'ospedale è un punto di riferimento per tutto il territorio? Assolutamente sì. Dicevamo che probabilmente è la prima volta che nel nostro territorio c'è una mobilitazione così trasversale e unanime a difesa di un qualche cosa. Questo è il segnale che il pericolo c'è, è evidente, è altrettanto evidente che un territorio in maniera compatta vuole tentare di difendere questo suo diritto acquisito nel tempo con tutti i mezzi a sua disposizione. Tanti sindaci oggi a manifestare a difesa dell'ospedale di Palmanova significa che è un punto di riferimento per un vasto territorio? Certamente, noi sindaci siamo i rappresentanti dei nostri cittadini, i cittadini ce lo chiedono, noi stessi siamo cittadini di questo territorio e siamo qui proprio per manifestare il nostro diritto e la nostra ferma intenzione a tutelare un presidio di un territorio ampio, anche più ampio di quello che è la singola zona. Sappiamo benissimo che in questo punto nascita provengono persone addirittura dal Monfaconese, da Cormons, da altre aree. Perché? Perché qui si sono trovate bene, perché qui c'è un buon punto di riferimento, c'è del personale umano, io ho avuto due figlie in questo ospedale, posso solo dire bene. Queste quindi le parole di alcuni dei partecipanti alla manifestazione di oggi. Sindaco, avete iniziato anche una raccolta firme, avete raccolto ben più di 1200 firme? Abbiamo già raccolto, proprio partendo così, 1200 firme, adesso distribuiremo 10.000 volantini chiedendo alla gente del territorio di venire a firmare a Palmanove in piazza lunedì e qua davanti all'ospedale e all'anagrafe, però altri sindaci mi hanno chiesto che si vogliono attivare per raccogliere firme in tutti i comuni. Quindi partiremo a sbombattuto, come ho detto, quella di oggi è la prima azione di un percorso che ci vedrà, dico uniti, compatti, affinché vengano ascoltate le nostre ragioni. Noi vogliamo, dico, lasciamo aperto quello che sono i rapporti istituzionali, vogliamo dialogare, ma vogliamo anche far ragionare la politica regionale su dati, su fatti e non chiaramente su promesse elettorali che non possono essere certamente mantenute. Grazie Sindaco Martino e Sate David. Grazie e grazie a Francesca Santoro per i contributi che continueremo a proporvi anche nel corso delle prossime edizioni. Avete visto una presenza massiccia di cittadini, ma anche di istituzioni, tanti amministratori locali sia di centrodestra sia di centrosinistra a testimonianza di come la battaglia aggreghi tutto il territorio palmarino e non solo. Tra l'altro, ve l'avevamo anche anticipato ieri, la prossima settimana anche la Tisana scenderà in piazza a difesa del suo ospedale per richiedere nuovamente di riavere il punto nascita. Anche in questo caso continueremo a seguire queste tematiche molto vicine alla nostra popolazione, al nostro territorio. Apriamo ora la pagina di cronaca tornando purtroppo a nuove scosse di terremoto registrate questa mattina a Tolmezzo. Ricorderete ieri vi abbiamo raccontato praticamente live quanto era accaduto nel capoluogo carnico dopo la scossa delle 15.57 di magnitudo 3.9 e quella di 1.6 poco oltre la mezzanotte. Stamattina alle 6.12 la terra è tornata a tremare ha fatto segnare una magnitudo di 3.5 sempre con epicentro Tolmezzo. Dalle prime indicazioni sarebbe stata una scossa verificata sia una profondità limitata, un chilometro e quattro, dando così la sensazione di essere ancora più forte. Sono state davvero tantissime anche le segnalazioni giunte ai vigili del fuoco, alla protezione civile, gli scambi di messaggi sui social. Anche in questo caso la scossa è stata avvertita in una vasta area del Friuli anche fino a Udine ma pure in Cadore e in Comelico, inducendo più di qualcuno a scendere nuovamente in strada così come era accaduto ieri pomeriggio. Non si sono segnalati danni a persone o cose, è molto spavento. Dal pomeriggio di venerdì 14 sono continuate anche le scosse di assestamento, le più forti le 18.13 con magnitudo 2.1 e alla mezzanotte 0.7 con magnitudo 1.7 con epicentro rispettivamente sempre a Verzegnis e Tolmezzo. Andiamo ora sull'Isonzo a Gorizia per una tragedia, lo hanno visto camminare sul Ponte Piuma e spoggersi sul parapetto, poi è scomparso e inghiottito dalle acque dell'Isonzo. È successo nella prima serata di ieri attorno alle 21, si tratta con ogni probabilità di un ospite del cara di Gradisca che ieri sera mancava all'appello. Sono state attivate le squadre dei vigili del fuoco anche con i sub provenienti da Venezia per cercare di individuare lo straniero e questa mattina purtroppo l'ospite del cara è stato trovato senza vita attorno alle 9.30. La salma è rimasta impigliata in una grata in una centrale idroelettrica ed è stata recuperata. Soccorso alpino e vigili del fuoco ieri nella tarda serata in azione anche nelle montagne del Pordenonese per recuperare due escursionisti di Rovigo, l'uomo classe 1953, la donna del 1972 rimasti incrodati sopra Casso. I due stavano rientrando da un'escursione a piedi dopo aver fatto il giro dei cosiddetti libri di San Daniele e lungo la discesa hanno deviato sul sentiero che conduce al Col Martin, già in passato protagonista di episodi simili. Dal sentiero con segna via i due hanno a un certo punto deviato verso un altro sentiero con semplici bolini rossi nel punto in cui in questo risale in un tratto hanno invece continuato a scendere smarrendosi sopra alcuni salti di roccia. Sono stati inviati sul posto i tecnici del soccorso alpino con l'ausilio dell'elicottero della protezione civile. A tarda serata i due sono stati raggiunti e accompagnati in un posto in cui potevano essere poi imbarcati sul velivolo sani e salvi dopo la breve disavventura. Sei misure cautelari di cui due in carcere sono il risultato di un'operazione compiuta nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo operativo di Gradisca di Sonzo con l'operazione denominata Enduro. Perché? Perché le investigazioni erano partite nell'agosto 2018 quando i gnoti avevano tentato di rubare due moto da cross a Gorizia nella frazione di Lucinico all'interno di un garage condominiale. Nei mesi a seguire sono stati registrati altri furti sempre di moto da cross tanto da ritenere che ci fosse un canale diretto di ricettazione verso l'est Europa. Le indagini hanno consentito di ricostruire la banda che dopo aver consultato gli annunci economici sul portale subito.it aveva scelto le motociclette più care per poi contattare il venditore e visionarle in loco effettuando di fatto una sorta di sopralluogo per il colpo. A distanza di pochi giorni acquisite le informazioni necessarie i ladri colpivano asportando i motoveicoli. Nel corso delle indagini corroborate le attività tecniche durate quasi un anno sono stati acclarati rilevanti indizi di reità. In ordine ad una prolungata attività predatoria compiuta nell'ambito delle province di Gorizia, Udine e Pordenone che aveva come obiettivo oltre le moto da cross anche notevoli quantità di generi alimentari e danni di ristoranti oltre a furti in abitazioni e su autovetture in sosta. Il jeep di Gorizia ha disposto la custodia in carcere per due di loro e per tre l'obbligo di dimora nei rispettivi comuni di residenza. Questa notte invece la polizia di Stato di Trieste ha denunciato per lesioni personali un cittadino croato classe 1989 senza apparente motivo aggredito un giovane nei pressi di un esercizio pubblico sulle rive cittadine procurandogli una ferita lacero contusa alla testa e un'abrasione alla spalla. Sul posto è intervenuto un equipaggio della squadra volante. Ed ora andiamo a dare un'occhiata alla situazione in autostrada perché è una nuova giornata di difficoltà in A4 come potete vedere dal sito di Info Viaggiando attualmente le code sono segnalate lungo il tratto compreso tra San Giorgio di Nogaro e Porto Gruaro in direzione Trieste con code anche in territorio Veneto per quanto riguarda proprio la zona di Porto Gruaro e San Donà ancora code quindi per i molti vacanzieri diretti alle località balneari non solo della nostra regione ma anche di Slovenia e Croazia. In mattinata abbiamo anche le immagini ci sono state diverse code soprattutto allo snodo di Palmanova con le auto che da Udine erano dirette proprio verso Venezia e questa è la colonna che si era formata proprio in prossimità dello snodo dello svincolo di Palmanova. Possiamo dare anche un'occhiata alla situazione in real time vedete traffico continuo sia verso Trieste sia verso Venezia proprio in prossimità dello snodo tra A4 e A23 ricordiamo poi che tra l'altro la prossima settimana ci saranno anche nuove chiusure per i lavori della terza corsia. Apriamo ora la pagina politica a Udine scontro totale sulla questione della raccolta differenziata un tema che non ha convinto in molti dall'idea dell'amministrazione Fontanini di passare al porta a porta spinto in tutta la città ebbene la notizia è che ieri sera si è dimesso il capogruppo della Lega in consiglio comunale Marcello Mazza proprio in dissenso contro le politiche ambientali del comune del comune stamattina invece il partito democratico e gruppi di opposizione in consiglio hanno presentato una petizione proprio per far cambiare idea alla giunta una petizione che ha visto già i primi cittadini sottoscriverla. Quella c'è una petizione perché noi siamo tutti ambientalisti ma la proposta di Fontanini non è ambientalista è una proposta che grava sulle casse dei cittadini, crea disagio ai cittadini, grava sulle schiene dei lavoratori e non è ambientalista perché aumenta il numero di mezzi pesanti in circolazione, aumenta il numero di passaggi di raccolta e non è assolutamente sostenibile dal punto di vista ecologico. Allora chiediamo al sindaco nel 2019 di adottare e di studiare metodi che altre città in Italia e in Europa hanno adottato che sono che usano la tecnologia che oggi c'è in circolazione, c'è e si può utilizzare invece di investire su un metodo di raccolta che è stato introdotto nei comuni con termini negli anni 90 quindi oggi sicuramente superabile con altre tecnologie come tanti comuni in Italia, in nord Italia in particolare, stanno passando dal porta a porta che propone oggi Fontanini a Udine a sistemi tecnologicamente avanzati quindi gli chiediamo un confronto con i cittadini che non sono informati, non sono stati informati, di riflettere con i tecnici e di adottare un sistema tendenzialmente misto cioè diverso tra il centro storico e la periferia ma che sia adeguato al 2019 l'anno in cui viviamo e non portare Udine indietro di 20 anni. Vincenzo Martinez sulla differenziata la giunta Fontanini entra in crisi, siamo proprio all'indomani delle dimissioni di uno dei consiglieri di maggioranza, Mazza. Intanto non era mai successo che il capogruppo di una città importante come Udine, il capogruppo della maggioranza si dimettesse dopo un anno, questo è veramente sorprendente. Allora questo vuol dire due cose, uno che la raccolta differenziata è una cosa complessa, più di quanto si credesse e quanto credesse lo stesso Sinaco. In secondo luogo io mi sento di dire che non può essere solo la differenziata il motivo delle dimissioni politiche del capogruppo, ci deve essere qualcos'altro dietro che riguarda la maggioranza, staremo a vedere. A proposito di temi ambientali, Lega Ambiente anche nella nostra regione oggi ha informato sulle consegne delle consuete bandiere verdi e nere per le buone o cattive pratiche ambientali. Nella nostra regione ad aggiudicarsi le bandiere verdi due cooperative della montagna, la nera è stata affidata al governatore Fedriga e poi c'è la novità della bandiera grigia nei confronti dell'idea di portare il Giro d'Italia sul Lussari. Allora abbiamo assegnato quest'anno due bandiere verdi e vanno a due cooperative che operano in due settori distinti. Una è la cooperativa La Scluse di Chiusaforte che ha praticamente ridato vita alla vecchia stazione ferroviaria che è posta lungo la ciclovia Alpe Adria e ne ha fatto un punto di riferimento per tutti gli appassionati della bicicletta e turisti che arrivano nella nostra regione. L'altra a cui io tengo in modo particolare è un premio che va a una cooperativa agricola del paesino, praticamente uno dei pochi paesini di alta montagna della nostra regione, la cooperativa Copmont di Collina che opera appunto tra Collina e Collinetta e che è protagonista della salvaguardia, del recupero della tradizione della coltivazione del capuzzo, cavolo capuzzo tipico di Collina. Sandro Carnieluti, le bandiere nero, o meglio la grigia e la nera, a chi vanno quest'anno? Le bandiere grigie vengono date a progetti che ancora non si sono realizzati ma che in qualche modo ci allertano, per cui non sono ancora bandiere nere. Parlo dell'ipotesi dell'arrivo della tappa d'Italia sull'Usarin, prevista come proposta nel 2021, dove si prevede tra l'altro l'asfaltatura della strada eccetera. Noi abbiamo già detto no, assieme ad altre associazioni ambientaliste, ma noi non siamo gli ambientalisti del no a prescindere. Riteniamo che il ciclismo sia uno sport popolare, che sia un vettore di mobilità dolce e che possa contribuire anche all'economia del territorio. Per cui diciamo di sì, ma diciamo di sì a certe condizioni. Ad esempio, primo, che la strada non venga asfaltata. Due, che si calcoli, che venga calcolata, e noi siamo disponibili a farlo, l'impronta di carbonio. Tre, immaginiamo anche che chi viene a vedere questo spettacolo sia informato della particolarità, della particolare sostenibilità, ecco, di questo evento. La bandiera nera? La bandiera nera l'abbiamo immaginata niente meno al presidente della regione, Massimiliano Fedriga, in quanto in occasione di un evento con la protezione civile, a seguito di VAIA, nello scorso autunno, ha individuato assolutamente un nemico agli ambientalisti, parlando di ambientalismo folla. Ecco, noi riteniamo che su questi temi, come i cambiamenti climatici, ci deve essere massima serietà da parte delle istituzioni pubbliche, private, naturalmente, massima serietà e senso delle parole. Le parole hanno un senso, non possono essere così utilizzate a sproposito. Andiamo a Monfalcone ora, dove il Comune è il primo in regione ad applicare il decreto urbani, che prevede una riperimentazione urbana, volta rispetto dell'identità della città e del decoro. Inciderà quindi sul piano del settore del commercio. Il Comune di Monfalcone è il primo della regione ad applicare il decreto urbani. In effetti è vero, il 10 maggio di quest'anno noi in giunta, io ho portato in giunta una delibera che dava conclusione all'iter di questo provvedimento interessantissimo e importantissimo per il territorio. All'unanimità è stato votato, quindi vuol dire che c'è una condivisione ampia e totale da parte di tutta la Giunta su questo momento e diverso momento anche di interpretare il territorio. È un provvedimento che dà la possibilità di coniugare le libere iniziative commerciali e imprenditoriali con la valorizzazione del patrimonio storico e culturale. Quindi non si esclude, ma si mette in evidenza quali sono le peculiarità del territorio, dando la possibilità appunto anche di intervenire dal punto di vista commerciale, dal punto di vista imprenditoriale. Quindi un provvedimento che secondo me dovrebbe essere un po' da modello anche per gli altri comuni in cui consiste un centro storico importante. Perché il decreto urbani è importante per Monfalcone? Perché ci ha dato la possibilità di fare anche uno studio di riqualificazione urbanistica di questa città. La perimetrazione che è scaturita da quella valutazione oggi ci permette di inserire nel nuovo piano regolatore una nuova zona A, quindi una nuova zona di centro storico che racchiude non solamente la parte della città all'interno delle mura, di quelle che erano le vecchie mura della città, ma di allargarsi anche a quello che era il centro emporiale della città di Monfalcone. Quindi un lavoro di analisi, un lavoro di valutazione urbanistica che è servito molto. Per questo ringrazio molto gli uffici del Comune di Monfalcone, ma anche gli uffici della Regione che ci hanno dato una grande mano a mettere insieme questo provvedimento che oggi credo sia veramente importante dal momento che proprio nella nostra Regione, in Friuli, Venezia e Giulia, facciamo proprio da apripista. Ritorniamo a Tolmezzo ora dove oggi ha preso avvio stamattina la seconda giornata del raduno triveneto degli alpini, segnato come abbiamo ricordato anche ieri dalla paura per le scosse di terremoto, ma naturalmente l'afflusso non ne ha risentito con 20-30 mila penne nere attese. Gli alpini nella tre giorni visiteranno e stanno visitando luoghi simbolo della prima e della seconda guerra mondiale. Oggi alle 15 nella sala consigliare del municipio e del capologo Carni considera invece la cerimonia di conferimento della cittadinanza onoraria all'Associazione Nazionale Alpini. Il programma proseguirà poi alle 17 in piazza 20 settembre con il concerto della fanfara della Brigata Alpina Giulia, alle 18 la Santa Messa in Duomo e la sera il concerto di Cori al Teatro Candoni e i vari concerti di fanfare nelle piazze del centro nell'ambito della Notte Verde. Domenica 16 invece la tanto attesa a parata si comincia con l'ammassamento previsto alle 9.30 a cui seguirà alle 9.45 la resa degli onori all'Abaro dell'Associazione Nazionale Alpini e del Gonfalone del Comune. Alle 10 inizierà lo sfilamento, sono previste 35 mila persone. Coordinate dal comandante Tomate e dal vice Pascottini, 20 agenti della Polizia Locale stanno garantendo il servizio di vigilanza e controllo per quanto riguarda la gestione anche degli afflussi in centro città. La Polizia Locale fornirà il suo contributo affiancandosi alle altre forze dell'ordine chiamate a operare secondo il dispositivo di sicurezza promosso dalla Prefettura. E a proposito di Tolmezzo e del raduno degli Alpini, tra le tante iniziative collaterali è stata allestita un'esposizione dedicata a Michele Gortani e Albino Candoni al Museo Carnico. Vediamo. Aurelia Bubisutti, Presidente della Fondazione del Museo Gortani di Tolmezzo, museo che in occasione del raduno degli Alpini del Triveneto ha allestito una mostra particolare dedicata a Michele Gortani e Albino Candoni, due alpini che hanno fatto conoscere la città di Tolmezzo, che hanno dato tanti contributi alla Carnia in generale. Certo, due alpini, due persone, due uomini completamente diversi, tant'è che noi il titolo lo abbiamo fatto anche perché e soprattutto per il destino diverso, perché Michele Gortani è ritornato dalla guerra e ci ha raccontato alcune cose, anche sue impressioni e sue riflessioni sulla guerra. Nonostante lui sia andato volontario e lui per il corpo degli alpini avesse un affetto e una stima incredibile, ma nonostante questo era molto critico ed ha pagato con alcune cose abbastanza spiacevoli. Il Candoni invece anche lui è stato un alpino che per noi è stato un orgoglio, però purtroppo non è tornato a casa. Quindi abbiamo raccontato le loro storie, ma soprattutto volendo raccontare il loro legame col territorio, che è fondamentale, tant'è che voi avete visto qui oggi, era uno scultore, era un artista, Candoni morto prematuramente, quelle poche cose che ha fatto, importanti che ha fatto, alcune testimonianze le abbiamo noi che costudiamo veramente con molta attenzione e con molto rispetto. Una mostra che in questi giorni sarà visitabile gratuitamente da tutti. Certo, noi abbiamo fatto con l'ANA un accordo proprio perché abbiamo detto apriamo il museo per tre giorni agli alpini e io veramente con orgoglio spero che loro vengano, attraversino le nostre stanze e vedano la nostra storia, perché qui dentro c'è la nostra storia. Apriamo ora la pagina sportiva. È stata una settimana intensa per l'udinese, quella che si va a chiudere, che ha salutato come nuovo acquisto, Iaia, lo è riaccolto per Paolo Marino come nuovo direttore dell'area tecnica. Tutto è pronto quindi per partire per la prossima stagione, ma c'è attesa anche per l'esordio della nazionale, nella nazionale argentina in Coppa America, che stasera vedrà di fronte la Colombia nella prima gara del girone con Musso, convocato ieri al posto di Andrada, ed è Paul che spera nella maglia da titolare. Jacopo Romeo. Futuro e adesso l'udinese è prontissima a ripartire per la nuova stagione. Con l'asse proprietà Marino Tudor, il progetto è definitivamente in rampa di lancio. Il nuovo direttore dell'area tecnica si è già messo al lavoro con la proprietà per rafforzare la programmazione già tracciata prima del suo arrivo, a cui un profilo di spessore come lui potrà dare ulteriore slancio. Ed allora, in attesa della ripresa dei lavori il 7 luglio, si continua a farlo anche sul mercato, forti di un quadro chiaro e di un progetto di primissimo ordine voluto dalla famiglia Pozzo. E il valore della base tecnica è stato ancora una volta di più confermato dalla convocazione per la Coppa America, ricevuta da Juan Busso, che andrà a raggiungere Rodrigo De Pola per la fase finale, che vedrà l'Arvi Celeste in campo stanotte alle 24 contro la Colombia nella gara d'esordio del girone. La soddisfazione che Juan avrebbe meritato sin dall'inizio è arrivata, complice all'infortunio del portiere del Boca Andrada, costretto a gettare la spugna. La bravura dell'Udinese nello scovare i giocatori di grande talento e di sicuro rendimento ha trovato dunque ancora una volta certificazione attraverso questa chiamata per uno dei grandi protagonisti della stagione appena conclusa. E a proposito di rispiro internazionale, cresce anche l'attesa alla Dacia Arena per il kick-off degli europei, con lo stadio prontissimo ad accogliere già domani per rifiniture e conferenze stampa pre-gara a Germania e Danimarca. Un'atmosfera speciale che metterà Udina al centro d'Europa da qui alla finale del 30 giugno. Un'altra soddisfazione enorme per il modello udinese che ospita a casa sua questo grandissimo evento. Ed ora uno sguardo sui principali fatti accaduti in Italia e nel mondo, partendo da una ultima ora è morta. Purtroppo all'età di 96 anni Franco Zeffirelli, il noto regista, non avrei mai voluto che si arrivasse a questo giorno? Zeffirelli se n'è andato questa mattina, uno dei più grandi uomini della cultura mondiale. Ci uniamo al dolore dei suoi cari, addio caro maestro. Firenze non ti dimenticherà mai, ha scritto poco fa su Twitter il sindaco Dario Nardella. Zeffirelli è l'anagrafe Gianfranco Corsi. Zeffirelli è morto nella sua casa di Roma sull'appia antica, assistito dai figli adottivi Pippo e Luciano da un medico e dal parroco della chiesa di San Tarcisio che ha benedetto la salma. Circa una settimana fa, secondo quando si apprende dalla famiglia, aveva ricevuto l'estremmunzione. Si è spento serenamente e riferiscono i familiari dopo una lunga malattia peggiorata negli ultimi mesi. Zeffirelli, dopo i funerali di cui stabilire ancora luogo e data, riposerà al cimitero monumentale alle Porte Sante a Firenze, città dove era nato il 12 febbraio del 1923. La camera ardente sarà allestita in Campidoglio, a Roma. Ed ora le altre flash news dell'ANSA. Luca Lotti si è autosospeso dal PD, travolto dalla diffusione delle intercettazioni in cui affermava, fra l'altro, di voler dare un messaggio forte alle vicepresidente delle CSM Ermini, sul massimo organo dei giudici e ancora bufera, a partire dal caso Palamara, intercettato insieme a Lotti e a Cinque Toghe. Una di queste era Corrado Cartoni, di magistratura indipendente, da ieri, anche lui dimissionario per senso delle istituzioni. Mi autosospendo finché la vicenda non sarà chiarita, scritto a Zingaretti l'ex sottosegretario di Renzi, un gesto considerato dal segretario DEM di grande responsabilità. L'ex segretario dell'ANM Palamara nega di avere mai coinvolto il Quirinale. Vaga ancora a poche miglia da Lampedusa in attesa di una soluzione la nave della ONG Sea con 52 migranti salvati a largo della Libia. Una situazione di stallo che vede Salvini rilanciare le accuse contro la ONG e promettere che non la passerà liscia. Da Malta, dove partecipa al vertice dei paesi delle sud Europa, Conte chiede maggiore trasparenza da parte delle ONG e sottolinea che la Guardia Costiera libica ha già fatto diversi interventi. In serata, uno dei portavoce della Commissione UE ribadisce che le navi europee devono rispettare il diritto internazionale che impone salvataggi e sbarchi in un porto sicuro, condizioni, dice, che non si ritrovano in Libia. Scintille tra Stati Uniti e Iran per l'attacco a due petroliere nel Golfo dell'Oman. Per Trump l'Iran è responsabile, ma il Presidente non ha precisato quali saranno le prossime mosse americane. Teheran respinge le accuse e parla di un complotto da politici guerra fondai negli Stati Uniti. Prima di salutarci uno sguardo al meteo per le prossime ore, ancora cielo variabile con possibilità di qualche breve pioggia sparsa dalla tarda mattinata, stiamo assistendo a velature in quota, farà ancora più caldo sulla costa soffia la brezza, nel pomeriggio non escluso qualche isolato rovescio sui monti. Per la giornata di domani, domenica, ancora cielo sereno su tutta la regione in mattinata, in giornata sereno e caldo a foso su pianure costa, variabile in montagna, dove non è escluso qualche isolato rovescio temporale pomeridiano sulla costa soffia la brezza, dalla tarda serata potrebbe entrare Bora. È davvero tutto, l'informazione sui news tv tornerà questa sera alle 19, buona giornata.